Ogni anno tra i 4 e i 6 milioni di italiani finiscono a letto colpiti dall'influenza che provoca ahimè anche diverse centinaia di morti, più che altro per le conseguenze, soprattutto nelle fasce deboli della società, bambini ed anziani. Quest'anno l'epidemia influenzale è particolarmente aggressiva, oltre 10 giorni di durata tra malattia e convalescenza e stati febbrili che si attestano oltre i 40 gradi e complicanze come la tosse che stentano ad andarsene. Un quadro clinico impegnativo quindi, anche se il peggio dovrebbe essere passato, come si dice, in quanto dovremmo esserci lasciati alle spalle il picco di maggior morbilità. È stata un'influenza pesante perché numerosa e con casi clinici anche abbastanza impegnativi. Forma classica che si è complicata con forma di bronchiali, con broncopolmoniti, scompensi cardiaci, insufficienze renali ed è per questo che è molto importante che la popolazione venga sottoposta nei tempi dovuti alla vaccinazione contro questa influenza. C'è poi anche una forma non classica che ha interessato soprattutto negli ultimi periodi, sotto forma di gastroenterite, per fortuna abbastanza veloce come decorso, però con vomito e diarree importanti. Il pronto soccorso del Santa Croce di Fano ha registrato 150 accessi in più per patologie respiratorie rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un picco nelle fasce d'età compreso dai 0 ai 4 anni ma maggiormente dai 4 ai 10 anni, che probabilmente non hanno un'immunità pregressa come alcuni adulti, essendo questo ceppo già stato presente sul territorio nazionale, ma le categorie a rischio rimangono comunque sempre le stesse. L'influenza passa attraverso il flu, cioè attraverso colpi di tosse, starnuti, vivere in ambienti affollati, per cui le persone delicate dovrebbero astenersi da avere esposizioni ad ambienti a rischio. Ci sono i bambini che frequentano gli asili, sono dei vettori di questa influenza, però è il problema di sempre. Diverse persone hanno dovuto fare ricorso anche alla rianimazione per insufficienze respiratorie molto gravi, diversi casi di broncopolmonite, bronchitacce con tosse che tendono a non scomparire, respiro ansimante e con tutte le conseguenze poi sul piano cardiocircolatorio. Per il momento però l'Italia non è stata toccata dalla tanto temuta variante inglese, ancora più pericolosa, non essendo stata rilevata sul territorio nazionale e forse non la vedremo mai. Finora non ci sono state particolari problematiche, massima allerta, precauzioni solite e speriamo che non arrivi, anche perché il piccolo fluenzale dovrebbe essere superato.